E ora parliamo dell'area di crisi perché è stata pubblicata la graduatoria degli aventi diritti ai finanziamenti. Una graduatoria che però non soddisfa poiché la cifra stanziata basterà a finanziare solo tre interventi. Ascoltiamo. Non manca la delusione, soprattutto tra quanti hanno perso il posto di lavoro nelle aree industriali tra Pettoranello e Pozzilli, per la pubblicazione della graduatoria per l'area di crisi. I 15 milioni di euro disponibili serviranno in pratica per finanziare solo tre interventi nei primi posti in graduatoria. Ecomont per 7 milioni e 900 mila euro per il trattamento dei rifiuti, alla De Francesco Service per 3 milioni e 300 mila euro, alla Industria Logistic per 4 milioni e 400 mila euro. Nessuna azienda del tessile, dell'agroalimentare, a parte la Dolce Amaro, che però risulta quarta e quindi potrebbe non essere ammessa. Le prime tre imprese, tra l'altro, che teoricamente assorbono tutta la provvista finanziaria, incrementeranno le loro assunzioni con 66 dipendenti. La pubblicazione della graduatoria sta alimentando non poche preoccupazioni, proprio perché, nell'area industriale considerata, i dati parlano di una perdita di posti di lavoro pari a 4.676 unità. Soprattutto, ancora, per le speranze che si erano accese legate al settore del tessile per la possibile sua ripresa. Ricordiamo che i provvedimenti dell'area di crisi prevedono il finanziamento a fondo perduto del 25%. Le attese per questo intervento di 15 milioni di euro per l'area di crisi erano tante ed ora, vista la graduatoria, le sole tre azioni previste hanno lasciato un po' di amaro in bocca, vista la situazione economica e sociale in essere.